Macchina che fa l'ingresso in dirittura, non toccano l'ala, Romeo Desi, rinascito ok, i rispettivi driver rinunciano decisamente a seguire l'ala, Rasputin Grip di galoppo prima dello stacco, e così. Via libera per Radiant va, avanti René Sartor, poi Raki HBD, Rano Wichelge, rinascito ok, Romeo Desi, e Rasputin Grip che viene squalificato in piegata, Radiant va all'avanguardia, su esterno Raki HBD che passa, tanto in coda sbaglia anche Romeo Desi. Nuovo leader Raki HBD su Radiant va, in terza posizione René Sartor, poi Rano Wichelge, squalifica anche per Romeo Desi, 35-7-4-60-32-4, gli ultimi 400 metri, 17 e mezzo la media, si può pare dar di più. All'avanguardia Raki HBD, in seconda posizione Radiant va, in terza sempre René Sartor, poi Rano Wichelge, rinascito ok, si esce dalla curva, Raki HBD sempre in avanti su Radiant va. Raki HBD battistrada, 33-8 il secondo parziale, 1-0-9-5 per i primi 860 metri, davanti alle tribune guida Raki HBD, in seconda Radiant va, in terza René Sartor, poi Rano Wichelge, che è il vecchio risposta all'esterno, trovando l'anticipo di René Sartor, favorito che prova in avanti, trova l'opposizione del contro favorito. Intanto al comando la terza forza, vantaggio Raki HBD su Radiant va, poi René Sartor, rinascito ok, e Rano Wichelge, 31 il terzo parziale, la progressione di René Sartor, che passa in seconda posizione, e ha sempre in scia Rano Wichelge, così a 550 metri dal traguardo, Raki HBD avanti a René Sartor, lungo la corda sempre Radiant va, in fuori sempre Rano Wichelge, avanti a rinascito ok, lungo l'arco della piegata, si arriva così ai 400 finali, con quarto completato in 28-7, fa la terza ruota Rano Wichelge, ma scurva decisamente largo, vantaggio Raki HBD nella sua scia Radiant va, poi René Sartor, mentre Pratì viene squalificato Rano Wichelge, Raki HBD all'avanguardia, Raki HBD, e all'esterno lo scatto di rinascita ok, 30 netti il quarto conclusivo, 2.38 e 3 il tempo totale, per una media al chilometro dunque superiore all'1.16, le battute conclusive al rallenti, Raki HBD è sotto l'attacco di rinascita, ok, ma sembra potersi difendere Matteo Restelli. Fotografia tra i due, azzarderemo, 2, 7, 1, quarta per la cronaca, Radiant va, questo è quanto per il premio Auxilia Finance.